In questo video vediamo le 5 migliori piastre ad induzione in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo! Numero 5. Al quinto posto troviamo iGostar. Scegli tra 10 livelli di potenza e 10 impostazioni di livello di temperatura preimpostati. Il piano cottura portatile iGostar è leggero e compatto per una facile gestione. Perfetto per dormitori, cucina di casa, camper, barche e molto altro ancora. Con una potenza di 2000 Watt, il piano cottura a induzione si riscalda più velocemente di un normale piano a gas, piastra elettrica o piano cottura. Maggiore trasferimento di energia e risparmio di elettricità rispetto ai normali metodi di cottura. A differenza del piano di cottura a gas o elettrico, il riscaldamento induttivo ha un blocco di sicurezza per proteggere i bambini da incidenti, con spegnimento automatico. È ideale per pentole o padelle in acciaio inossidabile o ghisa. Il sistema automatico del fornello si spegne se non rileva la pentola. Il prezzo è di 47 euro. Numero 4. Al quarto posto troviamo Eckel. Potente induzione con piano cottura precisa, 8 potenze, vanta 7 impostazioni di temperatura, quindi può essere utilizzato per preparare, scongelare o riscaldare una vasta gamma di piatti. Cura il design leggero ed è facile da trasportare all'esterno. Timer fino a 24 ore, per aiutare a prevenire cibo stracotto. Il pannello di controllo è facile da usare, con display led e maggiore efficienza energetica rispetto ai tradizionali fornelli elettrici. La sicurezza bambini è disponibile e il rilevatore di sicurezza funziona quando si spegne la pentola senza spegnere la macchina. Gli allarmi della si spengono automaticamente. Il prezzo è di 52 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 iscriviti a prezzo e recensioni per non perdere le migliori offerte del web in anteprima. Numero 3. Al terzo posto troviamo Eckel. Questo fornello a induzione ha un design elegante, quindi sarà anche una decorazione per la tua cucina. Sensibile al tatto, e semplice operazione con superficie in cristallo nero lucido. È facile da riporre, con dimensioni compatte e può essere facilmente riposto nell'armadietto, trasportandolo ovunque. Può funzionare a 10 livelli di potenza da 300 a 2000 W e a 10 intervalli di temperatura. È possibile scegliere la giusta impostazione di potenza per cucinare il cibo. L'elevata energia termica garantisce una cottura molto rapida con un'efficienza termica fino al 93%. Il timer è regolabile fino a 3 ore. Il fornello si spegnerà automaticamente se non vi sono pentole sopra in un minuto. La temperatura della superficie della piastra oltre i 280 gradi apparirà a codice di errore. La superficie in cristallo nero lucido garantisce un'eccellente resistenza all'usura e una facile pulizia. Il prezzo qui è di 57 euro. Numero 2 Al secondo posto troviamo Summaki. Questo piano di cottura è adatto da trasportare. Perché lo spessore di questo fornello a induzione è di soli 4,8 cm, perfetto per il campeggio e la compagnia. È durevole e molto facile da pulire. Adotta un display a LED che non solo migliora il senso dell'uso, ma mostra anche chiaramente. Può commutare 10 livelli nell'intervallo di controllo della temperatura e l'intervallo del livello di potenza. Puoi anche utilizzare un timer digitale da 1 a 180 minuti. Il prezzo è di 59 euro. Numero 1 Al primo posto troviamo caso. Piastra di cottura a induzione mobile professionale, con potente superficie in vetro ceramica di alta qualità da 3500 Watt con alloggiamento in acciaio inox robusto e extra piatto. Cottura di precisione con smart control su 12 diversi livelli di potenza. Temperatura regolabile da 60 a 240 gradi, funzione timer fino a 23 ore e 59 minuti di funzionamento intuitivo del sensore touch. È stabile grazie ai piedini antiscivolo, ha una protezione contro il surriscaldamento. Grazie alla superficie in vetro ceramica di alta qualità, con alloggiamento in acciaio inox robusto e extra piatto, la piastra a induzione caso è inoltre particolarmente robusta, antigraffio e facile da pulire. Produce il calore direttamente nella pentola. Ciò consente una cottura più veloce, diretta e a risparmio energetico. La superficie di cottura non si riscalda ma assorbe solo il calore irradiante della pentola. In questo modo si garantisce un piacere di cottura sicuro senza fastidiose bruciature. Grazie ai 12 diversi livelli di potenza con smart control, è possibile una gradazione molto fine e precisa del calore. È ideale per arrostire, cucinare, sciogliere, simmer o tenere al caldo. Altre funzioni intelligenti, come un timer integrato, una funzione di mantenimento in caldo e una protezione contro il surriscaldamento completano questo pacchetto completo. Il prezzo è di 153 euro. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Lo staff di Prezzo e Recensioni ti ringrazia per la visione.